Ben trovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia su un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Un cervo ha attraversato l'autostrada 22 creando un grave incidente. Sei le auto che sono rimaste coinvolte. Quattro i feriti sono stati tutti ricoverati. Tra loro si trova in gravissime condizioni una donna di 43 anni di Monaco che è stata ricoverata in rianimazione. L'incidente è avvenuto sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero ad un chilometro dal casello di Affi nel Veronese. Le auto sono uscite di strada per evitare l'animale che si è riversato all'improvviso davanti a loro. Un cervo di 100 chili. L'autostrada è rimasta chiusa per quasi tre ore. È la prima volta che si verifica l'attraversamento di questo tipo di animali sul tratto dell'A22 in una zona peraltro abbastanza abitata. Sono rientrate le preoccupazioni connesse alle piogge di particolare intensità. Cadute ieri nell'area compresa tra Refrontolo, Tarzo e Pieve di Soligo, specie per la portata del torrente Lierza. Allora sentiamo la situazione. Rientrata la preoccupazione nell'area di Refrontolo in provincia di Treviso, scenario della grande tragedia che ha colpito il territorio 12 giorni fa. Le piogge cadute nelle ultime ore avevano creato un nuovo allarme per l'aumento del volume del torrente Lierza che mercoledì è anche esondato. Vigili del fuoco e protezione civile hanno rimosso vari detriti trascinati a valle nell'area compresa tra Refrontolo, Tarzo e Pieve di Soligo. Nella giornata di giovedì invece i lavori si sono concentrati nuovamente nel tratto vicino al molinetto della Croda. Intanto oggi l'ospedale di Treviso ha diffuso un nuovo bollettino medico per informare sulle condizioni dei due feriti scampati alla tragedia. Le due persone restano in condizioni stabili. Entrambi i pazienti, informa la direzione sanitaria, si trovano ancora nel reparto di terapia intensiva. Uno per un periodo di osservazione che fa seguito ad un secondo intervento chirurgico di tipo ortopedico a cui è stato sottoposto due giorni fa. L'altro per il monitoraggio di una profonda ferita lacero contusa trattata anche con sedute in camera iperbarica. L'amministrazione comunale come promesso in campagna elettorale si sta adoperando per risolvere il problema che il tram ha provocato nel quartiere Guizza con la modifica alla viabilità. Di fatto le auto non possono svoltare da una parte all'altra del quartiere attraverso la strada principale se non in due punti con enormi disagi sia per i residenti che per i commercianti. In questi giorni verrà tolto un pezzo del cordolo spartitraffico di via Guizza per consentire l'attraversamento nell'opposta careggiata per l'accesso ad un parcheggio privato fondamentale per alcune attività commerciali. La parte del cordolo in questione sarà quella di fronte ai civici 4046. Restiamo ancora nel territorio. Questa volta parliamo di un incidente avvenuto questa mattina in una tangenziale padovana. Giovedì mattina un camion è finito fuori strada nella bretella che dal casella autostradale di Padova Sud porta in curva Boston. Il mezzo pesante ha terminato la sua corsa sopra il guardrail. Nessuno è rimasto ferito né altri mezzi sono rimasti coinvolti. Dal serbatoio del camion però si è riversato sulla strada tutto il gasolio che conteneva. Sul posto sono intervenuti soccorsi ed è stato necessario chiudere il tratto stradale per permettere agli operatori la pulizia del manto. La presenza del carburante sarebbe stata un rischio per gli altri veicoli in transito. La polizia stradale è avviata nel periodo di interruzione stradale delle tratti alternative. Restiamo ancora nel Padovano ci spostiamo in provincia nella bassa padovana una notizia davvero terribile. Una ragazzina di 10 anni sarebbe stata violentata dal padre. L'uomo dopo la denuncia presentata dalla mamma della bambina è stato rinchiuso in carcere. Sembra che ad avvalorare il dramma vi siano delle prove realizzate tramite alcuni filmati. Sulla vicenda vi è il massimo riservo e le indagini stanno proseguendo. È ricercato un tunisino che nelle primissime ore della mattinata al Lido di Venezia ha aggredito un suo connazionale provocandogli una profonda ferita al costato. L'uomo sanguinante è stato soccorso da un veneziano che lo ha trovato per strada. Tra l'altro dopo essere giunto al pronto soccorso il ferito ha sbagliato ingresso raggiungendo una piscina usata per le terapie in acqua. Tra i presenti che hanno visto l'uomo sanguinante si è creata immediatamente apprensione ed è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno ricostruito l'episodio e stanno cercando il responsabile del ferimento. Probabilmente tra i due era scoppiata una lite che poi è degenerata. L'uomo è stato trattenuto all'ospedale. Roccambolesco inseguimento a piedi in via Bafile a Jesolo. Nella trafficata via di vacanza i poliziotti hanno bloccato due pusher. Sentite come andata. Scene da film americano mercoledì sera a Jesolo. Gli agenti della polizia sono intervenuti per la presenza di due soggetti stranieri dediti allo spaccio. All'altezza dell'accesso al mare 21 in via Bafile i poliziotti con la complicità di una comitiva di turisti si sono finti i vacanzieri e si sono avvicinati ai due. Quando i balordi hanno capito di essere stati scoperti si sono dati alla fuga. È nato un inseguimento con una folle corsa di mezzo chilometro a piedi lungo via Bafile tra le persone a passeggio. I due non hanno demorso nemmeno cadendo a causa dell'asfalto umido. Alla fine i poliziotti che hanno ricevuto anche l'appoggio di alcuni testimoni che gli hanno dato la bicicletta le hanno acciuffati. In tasca avevano 14 dosi di cocaina pronta per essere venduta. Nel portafogli quasi 1000 euro. Denaro sicuramente provento dell'attività di spaccio. Ai due che sono stati arrestati viene attribuito un ingente traffico di droga. I loro cellulari continuavano a suonare anche quando erano al commissariato. Evidentemente si trattava di clienti che volevano stupefacente. Un cittadino albanese di 29 anni è stato arrestato a mestre dagli agenti della squadra mobile per possesso di quasi 900 grammi di marijuana. La droga è stata trovata all'interno di un mobile della camera da letto del giovane. Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale usato per il confezionamento della droga. In corso indagini per individuare eventuali complici. Si era allontanato la scorsa settimana dall'abitazione della sorella dove era ristretto agli arresti domiciliari. È stato rintracciato e arrestato alle 3 della notte nella stazione di Mestre. Alle 3 di notte si aggiravano al binario 8 della stazione di Mestre nel Veneziano. Due uomini che salivano e scendevano dal convoglio Vienna-Roma hanno destato l'attenzione e i sospetti della polizia ferroviaria. All'apparenza sembravano potenziali borseggiatori che potevano prendere di mira i passeggeri in viaggio che a quell'ora dormivano. Gli agenti li hanno fermati e sottoposti a controllo. È emerso che uno dei due era fuggito dalla detenzione agli arresti domiciliari. L'uomo, un quarantenne rumeno gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio e affetto da turbe psichiche, doveva scontare una condanna fino a novembre 2016. L'altro era stato scarcerato il giorno precedente. Il quarantenne evaso è stato arrestato. Ritorniamo nel Padovano. Erano andati a rubare all'interno di un'azienda di macellazione nell'alta Padovana. Avevano già preparato un camion con della merce accatastata e ne stavano rubando altra. Sul posto però sono giunti i carabinieri. Quando si sono visti scoperti i ladri, hanno pensato di nascondersi dentro la cella frigorifero. Non hanno fatto i conti però evidentemente con il freddo e con i militari che si erano nascosti a loro volta in attesa che uscissero. Alla fine, estremati dal freddo, i malintenzionati sono usciti e sono stati arrestati. Si tratta di tre persone dell'est Europa, un moldavo, un rumeno e un cittadino e ucraino. Medici con l'Africa QAM resterà in Africa nei territori colpiti dal virus dell'ebola. In questi giorni è rientrata una delle figure chiave dell'organizzazione. Sentiamo allora nel prossimo servizio la situazione dei volontari. Il QAM Medici con l'Africa continuerà la sua missione di assistenza nei paesi colpiti dal virus dell'ebola. A Padova è appena rientrato dalla Sierra Leone il dottor Giovanni Putoto, responsabile della programmazione, che sul posto ha supportato il lavoro del team. Il personale è stato in parte ridotto, ma il QAM ha comunque deciso di rimanere sul territorio e ad operarsi per seguire i malati. L'opera si concentra su due aree, l'ospedale e il distretto. All'ospedale è stato avviato lo screening di tutti i pazienti, bambini e mamme che si presentano nell'ambulatorio o che vengono ricoverati. Formazione clinica e protezione massima degli operatori sono i capisaldi dell'attività. Un grande sforzo è stato fatto per l'installazione delle unità di isolamento dei casi sospetti. Intensa anche la formazione del personale, delle unità sanitarie periferiche e dei team più a rischio. Il personale che assiste ai casi sospetti nell'isolamento e il team impegnato nella tumulazione delle salme dei deceduti. Rimane un grande lavoro da fare per sensibilizzare la comunità e per coinvolgerla attivamente nel controllo dell'epidemia. Nel contempo, Medici con l'Africa QAM sta cercando di reperire risorse finanziarie supplementari per mettere in atto gli interventi aggiuntivi richiesti, come acquisto di kit per la protezione individuale, occhiali, camici, guanti, stivali, maschere, ma anche disinfettanti, schede telefoniche e gasolio per assicurare attività di formazione degli operatori locali, sensibilizzare le comunità, supervisioni e monitoraggio delle situazioni all'interno dei distretti. Nell'ambito dell'attività straordinaria di controllo sul territorio predisposte dalla Questura di Venezia in ottemperanza alle direttive ministeriali dell'8 agosto in materia di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale si è svolto un controllo interforze sul litorale di Sottomarina, impiegato nell'operazione personale della Polizia, ma anche Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia Costiera e Polizia Locale. Un controllo interforze che ha dato degli ottimi risultati. Sentiamo com'è andata. Sul litorale di Sottomarina si è svolto un controllo interforze predisposto dalla Questura di Venezia per prevenire e reprimere la vendita abusiva sulle spiagge, con particolare attenzione al contrasto della vendita di marce contraffatta. Impiegati Polizia di Stato, Uomini della Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Polizia Provinciale e Polizia Locale di Chioggia. Il servizio, durato varie ore, ha consentito di ottenere brillanti risultati. 21 i soggetti, quasi tutti di nazionalità straniera, identificati, 15 dei quali, sorpresi in prossimità degli arenili e sulle spiagge, intenti a offrire la propria merce ai bagnanti. Tra loro cittadini senegalesi, nigeriani, del Bangladesh, rumeni, un indiano, un siriano, un olandese e anche due cittadini italiani. Solo tre persone sono state trovate in stato di clandestinità. Tutti sono stati condotti negli uffici del commissariato e sanzionati, gli irregolari, espulsi dal territorio. Numeroso il materiale sequestrato, parte contraffatto e altro comunque posto in vendita in maniera illegale. Nella vicinanza di uno stabilimento balneare, inoltre, in una buca scavata nella sabbia, è stato trovato un consistente quantitativo di merce contraffatta e sepolta. Probabilmente si trattava di materiale nascosto in previsione dei controlli e pronto per essere recuperato. Non solo accanto al luogo sono stati trovati sacchi di plastica con all'interno scatole di cartone, lenzuola e altro materiale vario, ovvero l'occorrente per allestire banchetti di fortuna su cui esporre la merce da porre in vendita. I controlli proseguiranno ancora nel corso dell'estate al fine di prevenire e reprimere il fenomeno. Una piccola tartaruga marina rimasta spiaggiata al Lido di Venezia è stata recuperata dai volontari della protezione civile di Pellestrine e dagli esperti dell'oasi della WWF degli Alberoni. L'animale è stato trasportato a Chioggia per essere sottoposto alle cure veterinari di cui necessita. L'attività si è svolta nell'ambito della collaborazione esistente tra l'amministrazione comunale di Venezia e il WWF. Oggi, alla vigilia dell'assunzione della Vergine Maria, la ricorrenza di padre Massimiliano Colbe. A Padova ricordiamo che un altare a lui dedicato si trova all'interno della Basilica di Sant'Antonio, un uomo straordinario che sacrificò la sua vita per salvare un padre di famiglia nel campo di Auschwitz. Vogliamo ricordarlo nel prossimo servizio. Il 14 agosto ricorre la data della morte di padre Massimiliano Maria Colbe. Sacerdote, martire, frate e francescano conventuale, venne rinchiuso nel campo di concentramento di Auschwitz e offrì la propria vita per salvare quella di un padre di famiglia. Padre Colbe, al centro della sua vita, pose sempre la figura di Maria Immacolata. Prego sempre, divulgò grandi messaggi che ancora oggi continuano a diffondersi attraverso l'amore che ha lasciato. La figura della Vergine rimase accanto a lui fino all'ultimo respiro. Quando venne ucciso nella cella di Auschwitz, guardò l'ufficiale nazista, giunto per infondere l'iniazione letale. Lo guardò, pose il braccio e disse «Lei non ha capito nulla della vita, l'odio non serve a niente, solo l'amore crea». Prima dell'ultimo respiro pronunciò «Ave Maria». Anche durante la permanenza nel campo di concentramento sollevava lo spirito dei compagni, pregando e rivolgendosi sempre a Maria. Giovanni Paolo II, nell'elevarlo agli onori degli altari il 10 ottobre 1982, lo ha proclamato un patrono del nostro difficile secolo, un esempio di pace e di fraternità in una società sconvolta dall'odio e dell'egoismo. L'espressione «Solo l'amore crea» fu ricordata più volte anche da Paolo VI nel 1971, in occasione della sua beatificazione. Padre Colbe venne ucciso il 14 agosto 1941 alla vigilia dell'assunzione di Maria. Le sue ceneri vennero disperse nell'aria. A Padova, all'interno della Basilica di Sant'Antonio, si trova un altare a lui dedicato, meta di preghiera e devozione. Il comune di Godega di Sant'Urbano ha pubblicato un bando rivolto ai cittadini interessati a trasformare edifici agricoli non più utilizzati in case destinate a familiari. Lo ha comunicato il sindaco Alessandro Bonet, spiegando che l'iniziativa è finalizzata ad evitare il consumo di nuovo suolo a fini residenziali. Fino al 15 ottobre, ha precisato, tutti i cittadini potranno presentare all'ufficio protocollo della comune specifiche richieste per la trasformazione della destinazione d'uso dei fabbricati già esistenti, ma non più utilizzati. Parliamo dei cosiddetti annessi rustici in destinazione d'uso residenziale, abitazioni per i figli e nipoti. E adesso andiamo a Cittadella, in provincia di Padova, per parlare di questo splendido territorio. Lo facciamo con Marisa Sottovia, esperta di storia. Oggi parliamo di un comune vicino a noi, di Cittadella. Cittadella, città d'arte, è un comune di circa 20.000 abitanti dell'Alta Padovana, famosa per le sue mura, che sono state oggetto di un recupero concluso qualche anno fa e che per tale motivo è diventata una meta turistica molto ambita. Cittadella ha origini antiche, risale appunto ai Palio Veneti, successivamente poi c'è stata l'occupazione romana e poi sono arrivati anche i Longobardi. Siamo circa a 600, sempre dopo Cristo, e in questo periodo viene edificata una pieve, la pieve di San Donato, che ha luogo appunto nell'omonima frazione odierna e che fu, sino alla costruzione del Duomo, la principale centro di culto. Cittadella poi appunto viene anche così interessata da quella che è stata l'espansione di Padova. Padova allora, XI-XII secolo, era un comune importante e quindi tende ad espandersi verso nord, verso Treviso e verso Vicenza. Treviso si preoccupa di questo fatto appunto di espansione della città di Padova e costruisce il castello e le mura a Castelfranco appunto. Padova non si fa attendere, 1220 provvede alla fortificazione, alla costruzione di questo centro, la cittadella, con le famose mura. Successivamente poi cittadella sarà soggetto a quella che è stato il governo, il dominio di Ezzelino III da Romano, successivamente ancora arrivano le Scalisi e poi la Serenissima. Serenissima, 1405, è un periodo di stabilità politica, di pace, di sviluppo sia economico sia per quanto riguarda l'artigianato e il commercio. Ma quello che contraddistingue questa città sono appunto le mura che dicevamo, sorte nel 1220, sono mura che sono alte 14 metri e circa e hanno un percorso di 1461 metri. Non hanno fondamenta, hanno uno spessore di 2,10 metri. Sono mura che permettono anche un camminamento, appunto il restauro è terminato due anni fa e quindi si può visitare, effettuare questo camminamento di ronda per così apprezzare un suggestivo panorama della città sia di giorno che di notte. Inoltre ci sono le quattro porte, quattro porte appunto che corrispondono ai quattro punti cardinali che mantengono ancora, conservano ancora parte degli affreschi dell'epoca. Porta verso Padova, è bello ammirare quella che è il simbolo, che è stato il simbolo dei Cararesi, appunto con il Carlo e quello che è stato, che è lo stemma di Padova, croce rossa su Campobianco. Anche le altre porte ovviamente conservano degli affreschi, soprattutto a carattere religioso sia per quanto riguarda la porta di Treviso che la porta di Vicenza. Cittadella non è famosa solo per le mura ma anche per altri siti benistorici molto importanti che sono la Torre di Malta, la Chiesa del Toresino, il Duomo, la Pieve di San Donato come dicevamo, la Chiesa di San Francesco. Inoltre ci sono dei palazzi famosi, Palazzo Pretorio, Palazzo del Capitanio e anche altre ville, la Villa Rina e la Villa Canave. Inoltre molto bello, è stato anche restaurato, il teatro sociale. Quindi Cittadella si presta quindi ad essere meta, giustamente meta turistica, per le mura come dicevamo ma anche appunto per i beni storici di cui abbiamo fatto cenno. Venezia è tornata a fare i conti anche oggi con il fenomeno dell'acqua alta anche se fortunatamente nella giornata odierna la marea ha toccato solo parzialmente Piazza San Marco una delle aree più basse della città. La massima alle 14.25 è stata di 82 cm, inferiore di 10 cm al picco di ieri. domani giornata di ferragosto, il tempo resta un'incognita e così nell'incertezza del clima chi non è andato in qualche località di vacanza resta incerto sul da farse. Ricordiamo che a Padova domani sera ci sarà la notte bianca, festa in Prato della Valle con i tradizionali fuochi d'artificio e i negozi potranno rimanere aperti fino alle 2 di notte. Ma vediamo la situazione meteo prevista dall'ARPAV di Teolo sul territorio. Una vasta area circolazione ciclonica insiste sull'Europa nord-occidentale influenzando almeno a tratti il tempo anche sul Veneto. Ci sarà una pausa anticiclonica che porterà un tempo più stabile, questo però a partire dalla giornata di domenica. E' tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata.